Intanto perché venivo dal mondo dello spazio, della micro criminalità e quindi sapevo benissimo che non si poteva avere un solo grossista e bisognava andare dai migliori a ottenere il meglio che potessero darti, consapevoli del fatto che fosse un rapporto di dare avere dove dal momento in cui io non rappresento più un interesse economico non c'è nessuno che ti vuole del bene e fa della carità quindi questa razionalità è molto importante perché non tutti i ragazzi a vent'anni ce l'hanno quello che vorrei io è che ci fosse una scuola, un percorso, uno studio insomma che potessi mettere in guardia tutti i nuovi ventenni su quello che riguarda il discorso merchandising, CIA, royalty e contratti insomma e soprattutto booking, questa è una cosa che nessuno ti spiega tu sei lì che fai il rapper del quartiere e ti senti super gangsta e poi vai in major e ti fai fregare come un agnellino ma sei gangsta cosa? Il primo gangsta fai gangsta negli affari caro mio sono stato gangsta a fare affari grazie 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 grazie